Protagonisti di un incidente anche banale scompaiono all'improvviso come se non fossero mai esistiti. Si tratta dei veicoli cosiddetti fantasma che viaggiano cioè per strada sprovvisti di copertura assicurativa RCA. Per porre un freno al dilagante fenomeno è stata portata a termine l'operazione della Polizia di Stato, ribattezzata Mercurio e Insurance. Una massiccia attività di controllo che in stretta collaborazione con l'ANIA ha riguardato proprio i mezzi circolanti senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge. Nel periodo compreso tra il 3 e l'8 luglio sono stati effettuati 76 posti di controllo, passando al vaglio 2496 veicoli e 407 persone. Accertate in totale 288 violazioni, 77 delle quali riguardano proprio la mancanza dell'assicurazione obbligatoria. Sono stati controllati i veicoli di ogni genere, compresi autocarri e autobus. Sono 58 i mezzi posti sotto sequestro.